Questa pandemia viene in un contesto anticristico della Cina in particolare, ma anche del mondo intero e quindi è un ammonimento del cielo. Attraverso questa pandemia la Madonna ci dà un messaggio chiarissimo, come ha detto anche il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha detto che questo virus sta compromettendo, diciamo così, dal punto di vista politico, economico e sociale, tutta l'umanità. La sta mettendo in ginocchio e forse il fatto che si chiami Corona, perché ha la forma di Corona questo virus, è anche un messaggio che la Madonna ci dice pregate, pregate, pregate e poi la Madonna nel messaggio del 2 febbraio, come lo finisce? Ci dice mettete le mani giunte e guardate alla croce, da lì viene la salvezza. Cioè la Madonna ci ha fatto un ammonimento, ci ha detto, ci vuole poco, basta un virus per mettervi tutti in ginocchio, basta un virus per farvi abbassare la cresta, abbassatevi intanto che siete in tempo, convertitevi intanto che siete in tempo. Pregate, credete, pregate, tenete in mano la croce del rosario, perché cari amici, il tempo dei segreti si avvicina sempre più e saranno cose terribili, non c'è dubbio, la mettono la Madonna, Miriana, ti ho mostrato molte cose terribili. Saranno guerre, saranno epidemie, saranno sconvolgimenti della natura, non lo sappiamo, ma nel medesimo tempo veniamo per avvertire tre giorni prima, perché l'umanità almeno in quei tre giorni si mette dalla parte giusta, cioè dalla parte della fede, dalla parte di Gesù Cristo, dalla parte della Madonna, e si smarchi, si liberi dal maligno, ma guardate che il potere di Dio, Cristo è il re del mondo, tutti siamo nelle sue mani, non c'è nessuna possibilità di vincere questa battaglia, il male non la vincerà, il male perderà, il male verrà sconfitto, stiamo attenti, cari amici, stiamo attenti, non dobbiamo essere superficiali, a Dio basta poco, l'imperatore l'abbiamo visto con la sua mascherina e il suo camice bianco, farsi provare la febbre. Chi è l'uomo? Chi è l'uomo? Ditemelo voi chi è l'uomo, se basta un virus per mandarlo a creatore, o per mandarlo sotto terra, e perciò ritorniamo a Dio, ritorniamo alla preghiera, ritorniamo alla fede, perché questo coronavirus ci fa capire che siamo fragili, siamo deboli, che è il sistema mondiale che abbiamo creato, basta un virus per farlo cronare tutto, ritorniamo a Dio, alla preghiera, e soprattutto noi cristiani facciamo quello che dobbiamo fare, annunciare a tutti la salvezza, che è Gesù Cristo, il figlio di Dio risorto, ecco, questo per me è il messaggio che ci dà questa pandemia che è tutto sommato Dio usa la mano leggera per farci capire e per farci preparare a come affrontare situazioni ben più pesanti, perché il tempo che si avvicina è il tempo della più grande prova dell'umanità e della Chiesa, dalla quale la Madonna uscirà vincitrice e preparerà per tutti un tempo di pace.